eccoci qua ciao a tutti ciao a tutti gli amici del del circolo acustico il circolo acustico è principalmente condivisione condivisione per quanto riguarda noi musicisti a cui piace suonare e condividere le esperienze e questa nostra grande passione che abbiamo per la musica e condivisione anche col pubblico che che ha il circolo il circolo acustico e purtroppo in questo periodo che abbiamo passato questa condivisione non non è più avvenuta né tra di noi musicisti e neanche purtroppo con il nostro pubblico ecco quest'idea che ha portato e che sta portando avanti così bene lui da tanto tanto tempo crea proprio questa sinergia tra noi musicisti prima e il pubblico che insieme creano questa fantastica magia purtroppo c'è stato un distacco c'è stata una separazione di tutte queste componenti la canzone che vado a presentarvi vado a presentarvi ora per questo per questa bella iniziativa appunto che che riguarda il circolo acustico parla proprio di questi di questi distacchi di queste di questa di questo periodo di quasi di abbandono l'ho scritta lo scorso lo scorso settembre e si chiama appunto le risposte che cerchi perché tutti noi in questo periodo abbiamo cercato delle risposte che non potevano venire subito perché perché non sapevamo quando tutto questo sarebbe terminato per cui la risposta che cerchi non sapevamo non serve parlare a volte non serve voltarsi a volte non serve sapere basta solo fermarsi a pensare se pensi che tutto sia facile se pensi che tutto sia semplice non pensare di guardare le stelle e di trovare le risposte che cerchi le risposte che cerchi le troverai nei giorni che passeranno lenti lontane dai rimorsi le risposte che cerchi le risposte che cerchi le risposte che cerchi le troverai nei sogni tre ricordi che fanno più male che fanno più male con le frasi lasciate in sospeso, con le paure che ti fanno aspettare le tue più lunghe attese, e poi alla fine ti sembrerà strano, anche il dolore diventerà piacere, quando la notte ti prende per mai mano e ti accompagni a lei dove crede, le risposte cerchi, le troverai nei giorni che passeranno lenti, lontane dai rimorsi, le risposte che cerchi, te le daranno gli angeli, le risposte che cerchi, le troverai nei sogni, e quelle notti passate a pensare, quelle notti passate a voltarti, quelle notti che non vuoi vedere, quelle notti che non vuoi sapere, le risposte che cerchi, le risposte che cerchi, le troverai nei giorni, che passeranno lenti, lontane dai rimorsi, le risposte che cerchi, le risposte che cerchi, le troverai nei sogni, le risposte che cerchi, per un ringraziamento particolare al nostro Luca Zarilli per questa stupenda chitarra che mi ha costruito ciao a tutti